Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta, il Papa si rivolge così ad Alex Zanardi, ricoverato da venerdì scorso nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Universitario Santa Maria alle Scott di Siena, dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto a bordo della sua handbike durante una gara benefica. In una lettera pubblicata dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Francesco osserva che la storia dell'ex pilota di Formula 1, che ha perso le gambe in seguito ad un altro gravissimo incidente avvenuto in pista nel 2001, costituisce un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport prosegue, lei ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. In questo momento tanto doloroso, conclude Francesco, le sono vicino e prego per lei e per la sua famiglia.